Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche, a proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici, o per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.